Paolo Bettini è da Vuelta, Paolo, anche tu, bravissimo! Vuoi venire in Australia a fare così con le nostre montagne? Ma perché no, in Australia ho avuto solo un'esperienza, le Olimpiadi a Sydney, sarebbe bello poter conoscere meglio anche le montagne di questa terra. E per te la salita più difficile del mondo? Ma credo che rimane ancora una volta il moltirolo. Sì? Sì, l'Angliru e lo Zoncolan hanno pendenze molto più dure, ma con tratti più brevi il moltirolo è veramente, veramente duro. Ma non è che dipende lo stato fisico in cui si stia, la posizione nella tappa, tutto questo? Sicuro, sicuro. Una salita molto difficile può diventare facile se uno sta bene. E poi volevo chiedere, il disegno di questi pantaloncini, perché così? Uh, guardami! Non lo so! Quando si è campione del mondo si può fare quello che si vuole, con questa forma qua? Speriamo di essere campione del mondo anche il prossimo anno. Sì? Ci proverò. Ci proverò. E poi il diviso che si mette dopo quel lavoro? Inventiamo un altro disegno. Per me sta meglio questo. Sì, molto bene. Grazie Paolo. A te. In bocca del lupo. Crepi.